La lotta in corso a Valo della Lucania sulla chiusura di piazza Vittorio Emanuele II è finita anche in prefettura. Nei giorni scorsi i consiglieri di minoranza si sono rivolti al rappresentante del governo perché il sindaco non ha risposto entro 20 giorni alla loro richiesta di convocazione di un consiglio monotematico sull'argomento. Nel frattempo il primo cittadino ha fatto sapere attraverso posta certificata al capo della minoranza Emilio Romaniello che non è ravvisabile la competenza consigliare nella materia proposta all'attenzione e che quindi l'argomento sarà inserito all'ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio Comunale. Intanto i commercianti contrari all'interdizione al traffico in vigore da circa un anno da quando partirono i lavori di ammodernamento attendono di capire che cosa è in testa l'amministrazione del sindaco Aloia. Recentemente aveva fatto sapere attraverso la nostra emittente che avrebbe riaperto al traffico il vecchio percorso soddisfando così almeno una parte delle richieste dei commercianti. Ma fino ad oggi la giunta Aloia non ha assunto nessuna decisione sulla riorganizzazione del piano viario in piazza. Intanto sul fronte dei contrari e alla chiusura si schiera anche Gaetano Passarelli proprietario di una serie di immobili nel centro cittadino. In una missiva innostrata al sindaco e al presidente del tribunale vallese pone in evidenza i disagi che il divieto di transito sta causando a chi vive e lavora nei pressi del centro cittadino. Alcuni affittuari di immobili di mia proprietà scrive mi hanno chiesto di dimezzare il canone mensile o la risoluzione del contratto d'affitto a causa delle sopraggiunte difficoltà da affrontare nel normale svolgimento di qualsiasi attività quotidiana. Non hanno più nemmeno la certezza del soccorso celere in caso di emergenze sanitarie. Nella stessa lettera pone in evidenza anche il calo delle vendite registrate nell'ultimo anno dalle attività commerciali che operano nei pressi della piazza. Ora la parola aspetta all'Aggiunta Loia che divisa tra chi vuole l'isola pedonale e chi no deve assumere la scelta più utile per vallo una scelta che potrebbe assumere proprio nella giornata di oggi.